oh allora fammi mettere un bellettino, meglio che dormo ah si e allora Ilea ci stiamo avventurando per il mondo di minecraft io come puoi vedere sono affamato ma che cosa sono quelle lucelli? che cosa sono quelle lucelli? è una casa perchè non dormo? è una casa però questa non ti ricorda qualcosa questi luci quella crafting table soprattutto mi ricordano questi recinti? si mi ricordano qualcosa e quelli lì ah questi recinti bene entriamo dentro vediamo se c'è qualcosa con cui posso spavarmi allora andiamo apriamo queste ceste nulla non c'è nulla cosa? come spavarmi? vediamo nelle fornaci allora non c'è niente 0 se andiamo per le scale questo moto piano è veramente molto ricco ma aspetta vediamo qui c'è un proprietario oh capito di chi è questa casa andiamo subito eh seguimi seguimi facciamo una rapina andiamo 3 2 1 1 1 1 2 2 3 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 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 in cui ci saranno anche loro perché mi dovranno aiutare in costruzione a sopravvivere e infatti come potete notare questo è il mondo delle avventure di master yuk e quindi anche noi abbiamo fatto parte di questo bel mondo per aiutare appunto il nostro yuk a sopravvivere lo uccideremo tante volte si questo è naturale che cazzo lanci uova 6 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 11 11 12 ok ti chiamo col tuo vero nome perché d'ammazzo a mi serviva proprio un po che però con l'arco bene ok si possiamo bellissima tra l'altro la cassa con ml che che tamarra ok cosa dobbiamo fare in questo episodio e beh non so che cosa fare in questo episodio per prima cosa prenderò un piccolo di legno dalla cesta per farò io no di pietra c'è un piccolo di pietra cacchio no questo è il ragazzo di riferimento dov'era la tua miniera la mia miniera non ce l'ho la devo ancora fare perché io prima mi esploderò il caverno e ce l'ho fatta qui sopra ragazzi fate il tour salite le scalinate e c'è la mia coltivazione che coltivazione di merda è piccola grazie cacchio il pregheo 506 mio primo che ora ora io che prende look per anni mi utile farò una bellissima cosa prenderò o vicino alla tua casa di un sale a chiocciola delle scale a chiocciola che porteranno la tua miniera scala chiocciola quando questo che si è fumato primi registra ilia per favore non esaltare sulle coltivazioni sto spavendo sempre ragazzi lo chiamo ilia perché sono abituato ma lui si chiama spins gamer quindi cioè giusto per dire ok io sto iniziando con le scale a chiocciola lui è un pochino nabbo è un alfabetico quindi zitto sprint ecco adesso mi abituo e si ricorda un nome soltanto ok vai con le scale a chiocciola no cazzo vai con le scale a chiocciola quando attiverò il pvp vi ammazzerò quando mi fate inrabbiare ok ragazzi ci vediamo quando sono arrivato al livello 10 ok ok io continuo a registrare perché ovviamente non stoppo e invece facciamo così ci prendiamo un po' di cobblestone ce l'abbiamo e ci facciamo un upicom e raga mentre scavavo ho trovato una miniera splendido no sì che si deve trovare un creeper un creeper allontanati dalla casa si trova un altro ucciso pure bene c'è del ferro cosa che mi fa tanto piacere prendiamo questo ferro lo seremo per uccidere masterlucco non so come però lo uccideremo allora io intanto vado a rubare il ferro l'amore sotto mi sa che si vede questa grotta si infatti si chiude tappiamo e faccio le torce faccio le torce a me piace a pari buchi modico al culo che paura ragazzi io che paura mesi e mi dite dove siete che non è miniera un altro non lo sapevo pensavo che sono a sarò bagno insieme pensavo ma guarda un po' ea dove state? splints rimetti di nuovo il muro in quale miniera sanno anche sto per chiamarlo ilia eh vabbè vabbè perchè è l'abitudine allora ragazzi come vi avevo detto ci rivediamo quando arrivo a livello 13 io invece no ah io metto le torce io metto le torce non metto neanche una torcia ecco che cacchio sta combinando non faccio il piccolo eh maaaah lollo dove sei? dove sei? allora io sto facendo quella scala chiocciola leggendaria di tu ma cazzo mi si è rotto il piccone ah 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 o qualcuno di porto un piccone dai non posso piccolare il punto di più 1.2 1.2 so e la donato cioè perchè graffa meno un attimo veloce però anzi aspettare a seme piccole passi un piccolo time he vip o lì e per tutti sposti peccato di una macchia ma non essere ok Ehi, io passami un attimo un piccone. Eh, se ci sta splinz, cacchiarola. Sali su. Eh no, chi è che ha messo la crafting table qua? Ma chi è? Ok, ragazzi, siamo tornati. Ci abbiamo messo un sacco di tempi e io e Ilya per preparare qui. E facciamo la casetta sulla spiaggia. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sto prendendo la fabbia. Ma la fabbia di Nicola. Vabbè, comincia a fare la struttura. Sì, perché la fabbia di Nicola? Ah, fai com'io, se ho gioco. Allora, c'è un insieme, bello. Allora, vediamo quanto fabbia, 28. Quanta fabio. Sorrido, sempre, ciao. Ok, se... L'ho avuto la sapia. Quella malattia molto grave. Quanto faccio, non stai. Sì, sempre, cazzo. Sì, sono un cazzo, ciao. Eh, quello che lo conosco. Ma che c'è? Ok, il quale continuiamo. Ok, io sto prendendo, sto prendendo il ferro. Parliamo un po' a Romano, sto prendendo il ferro. Sarei a Cigoria. Eh, a Cigoria. Ragazzi, fra voi c'è la finale dei mondiali. Tutti quanti tifano per Germania. Io tifo per l'Argentina. Ma vaffanculo. Allora, ti posso dire perché? Se vincere Germania, raggiungi l'Italia. Raggiungi l'Italia nei mondiali vinti. Giusto, tieni conto a questo. Anch'io ti favo Germania, poi c'è di pensare. Non sorrido più, ciao. No, sorridi sempre, perché questa è la tua malattia. Non sorrido più, ciao. Allora, spero, lo andiamo un pochino questo. Facciamo due volte. No, no. Quella mica l'entrata, l'entrata la facciamo di lato. Qua facciamo che si affaccia sul mare. È una piccola balconata. È lasciato così. È però il pavimento. Piccone d'urgenza, piccone d'urgenza. È non ce l'ho, è un pavimento. È non ce l'ho, piccone. Un gioco, un coppisto. Non ce l'ho, complisto. Ho tempo il piccone. E vai, 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 tira portare un po' e ti fai da me. Aspetta, faccio, faccio prima questa parte qui e vengo subito da te. Faccio il piccone. Comunque sopra la mia. Ma scusa, alla fine dei modelli non è già iniziata a bello. No. Ah, iniziamo tra poco. Non è venita. Oh, Ilya, possibilmente portami due piccoli. Cioè, ragazzi, mi avviciniamo di... Aspetta, porto... Aspetta! Mi spiego. Aspetta, faccio il piccolo. Hiamo capito che abbiamo aspettato. E tu... Ma tu fai il tipico, faccio il tipico. Eh sì, fai il tipico e dopo ritorno. Tanto è legale in questa serie. eh però il nome di Lorenzo è troppo grande guardi, io non ho mai che ci vuole hai fatto che è falso eh, questo è qui no, per provarlo, scena scrive una parola io mai mi sono barato a memoria ma non è che ci vuole nella scienza infatti c'è proprio scienziale è perché è scritto la ola scritta con uno zero esatto ma quella difficoltà mentale diglia eh raga, medici, comando sconosciuto, quindi... flash verso destra no Massimo ti dice, player non trovato, eh, non guarda Lorenzo no, allora, guarda che ho fatto non hai il permesso, non hai il permesso ah, è vero, non hai oppato, adesso ti oppo così eh, te l'ho detto di opparmi, canavola passa che non usi la creativa perché è illegale pure a me all'ottore a te chi ti oppa, tu mi rovini tutto ecco qua tieni l'ore ma tu mi sta la pala tieni, tieni, tieni tieni c'è, do pure la legna, aspetti, do pure la legna così non rompi più proprio letteralmente ma perché è la pala? eh, è così ma ho creato un'altra miniera dai, mamma mia quindi ragazzi andate a vedere la visuale di Lollo andate a vedere anche la visuale di Lollo che sta trovando tutto un tutto oddio ragazzi ho ripreso ora il registraneo mentre scavava la nostra miniera ho trovato una miniera che tra l'altro è naturale che è pina di ferro di lapislazini di corbo sembra già scavata tra l'altro credo sia perché è tutto buggato credo tra l'altro che sia un pezzo della miniera abbandonata molto probabilmente probabilmente ok, vediamo se riesce a fare questo ferro ferruccio amendola intanto ragazzi ditemi se vi piace come sei avendo la casa la casatta fatta da me la casatta oh ragazzi vi ricordo che per il finale di serie andrò a visitare Leoc tutto ok oddio oh qualcosa che cazzo è questa roba mascolone questo ok ok prendiamo cazzo come raga oh oh cazzo lo spawn bro guarda qua un dungeon oddio un dungeon di ragni velenosi mi attaccano mi attaccano i dungeon di ragni velenosi sinceramente sono quelli più pietosi perchè non ti danno niente eh però una figa cazzo che schifo guarda che ho qua arrivo 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 soffertando perciò ok allora ragazzi io non ce la faccio ad affrontare questo condizione in queste condizioni questo dungeon quindi me ne scappo prendiamo l'apis e se il tifone bene tappiamo questo buco perchè non vorrei più rivedere questa miniera di merda ok ok facciamo così in modo che usciamo entriamo anzi adesso facciamo così certo niente bene continuiamo a parlare è bravo è dritto eh cazzo 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 e cazzo ancora cazzo la porta perciò ho fatto ragazzi abbiamo il primo lato e io finisco di registrare ok lo faccio pure il secondo piano ah giusto bello però troppo eh io io scavo il primo lato perchè ci vuole troppo e dopo finisco di registrare ok noi ragazzi invece stiamo facendo tutto così senza fermarci ok in finale andremo vi andremo... cioè verrò a visitarvi ehi ma che cazzo mi dai un attimo il lascia ecco signora tutta lei ok stiamo finendo di scavare questo primo lato perchè naturalmente è iniziata la finale dei mondiali è iniziata la finale dei potuti mondiali cazzo ehm splint posso dire una cosa sto parlando qua è troppo grande per come alta ok raga quindi sbrigiamoci a scavare a contrapare le finali mondiali ahi ci metti di scavare per salire ok raga ci mancano pochi blocchi e abbiamo finito non vediamo di essere qua ok e abbiamo finito il primo lato yeee ok torniamo sopra tipizziamoci da master look ecco ok ok luo oppami sono già oppato bello no non sono oppato mi dici che non hai permesso arrivò arrivò off ok raga stiamo per andare da master look per vedere quello che hanno fatto in questo episodio vi ricordo che nell'episodio successivo vai vai quando decideremo di registrare io continuerò questo progetto quindi riportiamoci io e sprint continueremo a fare quello e sembra eh non mi dico che cosa sembra questo palo eh non neanche lo voglio sapere l'ha fatto sprint eh ma come si esce da qua se non c'è un cancelletto ma non si deve uscire infatti queste bellezza tutto e io esco eh sprint passi una cosa non va bene si si no no non va bene non va bene se mette tutto ok vediamo la nostra casetta di decorazione che carina sembra quella che ci hanno griffato nel server pvp ma infatti quella ho preso spunto perchè mi era piaciuta schifoso ok ragazzi con la visione di questa bellissima casa posso chiudere il video vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi di commentare per supportarmi e metterò il canale di questi due pedofili in descrizione mi raccomando iscrivetevi però supportate save the children per non farli finire nelle loro mani e quindi ragazzi già vi ho detto che se il video vi è piaciuto commentate iscrivetevi condividete il video e mi raccomando alla prossima seguiteci sempre su questa coop sulle avventure di Master Luke di Spins Gamer e anche di Lollocraft quindi diventa le avventure dei tre moschettieri ok che tiro straordinario e quindi ragazzi il video è finito alla prossima ciao a voi striscia invece io continuo perchè io non importa ok ragazzi vi seruto anche da questo canale quindi ciao e ricordatevi di iscriverti e ricordatevi di iscriverti e ricordatevi di iscriverti e ricordatevi di iscrivermi di iscriverti o cazzo e ricordatevi di iscriverti e ricordatevi di iscriverti ciao a you e cazzo ma che sei riuscito un attimo raga un attimo raga un attimo raga che sei riuscito un attimo raga un attimo raga ciao ok ovviamente ovviamente lollo è un coglione e già chiuso la chiamata che si fa? ma sei registrato tu? no ho cancellato perché da quando Lorenzo ha iniziato a fare il guido ok io no io si sto registrando perché devo finire la cassetta mannaggia vieni vieni ho fatto così in modo che siccome non avevo blocchi ok qua ci facciamo un'entrata ufficiale dal retro così nessuno se ne accorge eh grazie ok ok vabbè ragazzi il secondo piano oh ma per bellezza ma tu che per bellezza ma che bellezza mettici uno bianco semmai ma se no facciamo ma se no facciamo non facciamo così dai vabbè toglielo 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 oh ma che e di E' un po' di tempo, e poi non c'è un po' di tempo. E poi non c'è un po' di tempo. Ah, ok, e poi dopo questo video, questo video, va bene, corto, corto, prova. Con questo bel tramondo, tramondo, io, ma c'è roba in mezzo. Posso? Cioè, come faccio il video, vieni a voler tu, dai. Dai, vuoi venire? Vieni, facciamo un scrissetto bello. Sii. Mi stanno facendo, ve lo dico. Si, non mi metto più blocchi. Ahaha, nooo. No, 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 ti devo, puoi venire? Ti devo, ti devo, ti devo, ti devo a ciò da rompe. Dai, vieni, ci diamo. A te, ho, metto due torce. Una, qua, vengo, perfino, una qua, e vieni, vieni. Ah, sì, sto a te, 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 sto a te. Oh, tesoro. Oh. Allora, metto in F5. Ok, guarda verso dove sto guardando io. Guarda dove sto guardando io. Thank you. Oh. Oh. aspetta eh fammi fare uno screenshot eh non fare il cattivo eccolo qua faccio come fa Michael Jackson dopo questo spettacolino vieni qua vieni vicino me lo fai Michael Jackson prendiamo lo spot in mano e facciamo uno screenshot no non fare così non fare così calmo calmo il mio si sta arrabbiando vai vai mettiti così e guarda dove sto guardando io ok 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 screenshot 3 2 1 ok ok ragazzi dopo questo screenshot diciamo che questo episodio può finire qui ciao